Non mi sono mai divertita così tanto! Guarda, hai visto la coppia con cui mi intrattenevo poco fa? Sono dei tipi molto particolari! Sono Gerald e Sarah Murphy, due espatriati americani come noi, ma ricchi da far paura. Frequentano col Porter, Picasso, Rodolfo e Valentino. E vuoi sapere una cosa? Ci hanno appena invitato nella loro magione estiva. Non è favoloso? Andiamo, brindiamo! E cosa brindiamo, Scott? Hai... hai... hai mangiare rane francese! Pazzetto! Vuoi farci ripatriare prima del tempo? Allora, al mio prossimo romanzo. Scott, hai avuto qualche idea? Oh no, no, non ho avuto soltanto qualche idea, no, qui dentro c'è il più grande romanzo della letteratura americana. Scott è meraviglioso! E gli hai già dato un titolo! Oh sì, 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 sì. È una vicenda ambientata a Long Island, a New York, e ci sarà dentro di tutto. Amore, passione, morte, tragedia. Si chiamerà Gatsby. Gatsby! Il grande Gatsby! Il grande Gatsby! Ti piace il titolo? Scott, voglio fare un ridisio allora. Avanti. Mi aspetto che accadano grandi cose, signor Francis Scott Fitzgerald. E non ho dubbi che è proprio per questo che accadranno. A noi due. A noi due. A noi due.